Biologico, la logica della vita, è la storia di un uomo che viene imprigionato in un carcere di massima sicurezza. Non si ricorda cosa ha fatto, quali delitti ha commesso e il perché. Il sistema impone ricchezza come unica soluzione ai problemi. Non c'è la propria. Non eravate contro, semmai dentro. Attraverso immagini e messi in scena viene raccontato il perché quest'uomo è all'interno di questo carcere di massima sicurezza. Questo è un processo speciale, diverso dagli altri, che ti piacciono o no, è così. Ma cosa ne sai tu, tu, tu e rimani la sua salute con te, tu sei una di loro, mentre qua ci sono solo io.